Dopo la vittoria nello scorso weekend al Palacanizzaro contro la Brico City, l'Albaverde sarà impegnata sabato nella trasferta a Pedara, in casa del fanalino di coda Planet. Ritrovato il sorriso, le pallavoliste nissene cercano il successo lontano dal Palacanizzaro, che manca dal 3 dicembre dello scorso anno, quando si imposero a Catania contro la Funivia Etna. La squadra nissena si è allenata con intensità durante la settimana, svolgendo anche un allenamento congiunto disputato al Palacanizzaro con l'Hub Ambiente Catania, formazione di categoria superiore. La gara contro la Planet verrà giocata nella palestra comunale di Pedara con inizio alle ore 16.30. Volley, Serie B2, Girone M, sedicesima giornata. Fidelis Torretta, Gioiosa. Procoriericina, Zafferana. Stefanese, Ardenz, Comiso. Planet, Albaverde. Brico City, Cuscatania. Volley Region, Pallavolo Crotone. Saracena, Funivia Etna.